cosa stiamo facendo signora rosa gocciolando il maialetto voi questo lavoro non lo fate è vero? si che lo facciamo e come se lo facciamo così diventa più buono e si noi tutta la carne ce la facciamo tutta la gente che ne sa cosa cosa sta facendo perché è abbastanza grassa la carne ma non è il grasso dell'alto però oggi da amici a soleminis buona giornata a tutti